Una targa a Torino in memoria di Roberto Crescenzio, lo studente lavoratore morto per le Molotov che incendiarono il Bar Angelo Azzurro il 1 ottobre 1977. Il drammatico episodio fu l'epilogo di una manifestazione di protesta per l'uccisione a Roma del militante di lotta continua Walter Rossi. A 40 anni dall'episodio, che avvenne nella centralissima Via Po al numero 46, è stata posta una targa. Al termine di una cerimonia a cui ha partecipato in rappresentanza dell'Assemblea Legislativa il Vice Presidente del Consiglio regionale Nino Boeti.